Oggi Ufip produce diverse linee di piatti professionali, ognuna pensata e realizzata per consentire a ogni batterista di operare al meglio in specifici contesti musicali. In the rhythm of drugs, described by violent sensuality, the rhythm is becoming more and more excited. I piatti della serie Klass hanno qualcosa in più, più volume, più brillantezza, più dinamicità, maggiore pienezza del suono. Sono adatti a tutti i generi musicali, dal rock al heavy metal, dal jazz alla musica latina. Nessun altro piatto ha uno spettro sonoro così ampio e un'estensione musicale così dinamica. I piatti natural si riconoscono dalla superficie scura, frutto di uno speciale processo di tempera che riduce la tensione superficiale del piatto con un processo di invecchiamento che richiederebbe molti anni in condizioni normali. I natural, grazie a una martellatura profonda, hanno un suono caldo e pieno e sono una ricercatezza per gli amanti del suono antico, scuro, profondo e secco. I piatti Bionic uniscono potenza e calore. Sono perfetti per i batteristi che cercano una risposta immediata e uno spettro sonoro ampio. Nella lavorazione, il piatto viene temperato con un procedimento che riduce la tensione superficiale, poi lucidato a mano fino a raggiungere il caratteristico colore giallo-oro ed una superficie estremamente compatta. Infine i Bionic ricevono una martellatura profonda per avere un suono penetrante, aggressivo, ma ancora caldo. Il look e il suono dei piatti rough sono inconfondibili. Pensati per la musica heavy metal e per lo studio di registrazione, hanno un suono centrato sulle frequenze medie, controllato, ma forte e penetrante. I piatti rough sono martellati per ben 5 volte con tecniche differenti e rifiniti con una speciale microtornitura. Gli original sono un vero e proprio salto nel passato, alla ricerca di sonorità e caratteristiche tipiche degli strumenti degli anni 40, 50 e 60. La finitura, tradizionale e classica, è ottenuta con l'impiego di procedimenti di tornitura e utensili arcaici, mentre la battitura a doppio punzone, completamente realizzata a mano, garantisce un ottimo controllo dei sopratoni e una risposta secca e precisa alla pacchetta. I ride hanno un suono oscuro, decisamente jazzistico, mentre i crash hanno una risposta sonora chiara e immediata. Gli original sono per i professionisti che amano gli strumenti vintage. Ancora, battenti in pelle, scultura piccola, Pel, 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 anche da dietro. El, el, el. Le, le, el.